e centro assistenza con ufficiale da centro revisioni, soccorso stradale H24 e servizio carrozzeria Fratelli Carboni, esperienza e professionalità al tuo servizio ci trovi a Savignano sul Panaro in via dell'artigianato 130 o fratellicarboni.it Che energia con Rimini Wellness l'evento internazionale per fitness, sport e benessere dal 30 maggio al 2 giugno alla fiera di Rimini e sulla riviera Rimini Wellness è firmato a Italian Exhibition Group Ticket su RiminiWellness.com Sai quante sono le sfumature del verde? Infinite! Come le giornate verdi in Italia Romagna Sì!